Dal messaggino per Zingaretti ai vaccini. Dal teste Palamara. Non convocato. Alle ONG. Dichiarazioni a tutto campo del leader della Lega. Al via Catania. Alla presenza di Matteo Salvini. La quinta udienza sul caso Gregoretti. Davanti al GUP Nunzio Sarpietro che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. A fronte del pronunciamento della procura diretta da Carmelo Zuccaro per il non luogo a procedere. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona. In quanto avrebbe abusato dei suoi poteri. Privando della libertà personale 131 migranti. A bordo della Gregoretti della Guardia Costiera Italiana dal 27 al 31 luglio 2019. Giorno dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti nel porto di Augusta. Nell'ambito di un accordo per la distribuzione in alcuni paesi dell'Unione Europea. Oggi verrà ascoltato dai giudici l'ambasciatore Maurizio Massari. In qualità di rappresentante permanente dell'Italia all'UE. Sarpietro dovrà, anche decidere se accogliere la richiesta delle parti civili di ascoltare in aula. Come testimone. L'ex presidente dell'AMLUCA Palamara. In riferimento alla chat in cui scrive. Salvini ha ragione ma adesso va attaccato. Ieri alcune delle parti civili. Hanno depositato la richiesta formale. I legali chiedono di ascoltare Palamara, autorevole figura di snodo istituzionale tra CSM. ANM. Presidenza della Repubblica e figure politiche di governo di primo piano per fare chiarezza su uno spazio grigio. Una preoccupante zona d'ombra. Nella memoria depositata ieri dai legali di parte civile del procedimento contro Salvini. Gli avvocati fanno riferimento ad una domanda posta dal GUP all'ex premier Giuseppe Conte il 28 gennaio scorso durante la deposizione a Palazzo Chigi. E che riguarda proprio Palamara. Il GUP ha chiesto se da premier fosse a conoscenza di «progetti di esponenti della magistratura o del CSM contro determinati assetti politici e contro Salvini in particolare». Secondo le parti civili, dalle dichiarazioni di Palamara emergono inquietanti profili di orientamento della giurisdizione in relazione agli indirizzi correntizi interni alla magistratura nelle sedi giudiziarie e istituzionali che si sono occupate dell'odierno giudizio, sia nel senso del non luogo a procedere che in quello del rinvio a giudizio. Alle 13 il GUP di Catania Nunzio Sarpietro ha rigettato la richiesta di convocazione di Luca Palamara.